Salve, oggi ho cominciato la giornata in maniera eccellente. Era un po' che mi svegliavo al freddo e la doccia era un'incognita. L'acqua calda andava e veniva, la mia vecchia caldaia era andata ed oltre al disagio ero preoccupata anche per la sicurezza. Poi ho scoperto Climanet e ho chiamato. È gratuito, basta comporre il numero verde 800 90 41 46 così anche voi potrete cominciare la giornata con un sorriso. Grazie Climanet.